Ciao, sono Nicola del Negozio Passport. Prima di tutto amici, seguiteci sul nostro canale YouTube e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sulle nostre novità. Seguiteci anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Oggi vi presento la nuova Oka Clifton 8. Eh no no no, so che sei curioso, ma prima di tutto vai a mettere like al video e iscriviti al canale. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche tecniche di questa nuova scarpa. La Tomaya abbiamo un monofilo molto confortevole, molto spaziosa la zona dell'avampiede per le dita. La sensazione è quella di una scarpa molto leggera e anche molto fresca. Abbiamo una linguetta molto morbida che dà molto comfort al collo del piede e nella parte tallonare abbiamo sempre l'alleggerimento per il tendine d'Achille che ci garantisce un ottimo spazio. Abbiamo un'intersuola in eva molto morbida ed ammortizzante. Nell'uomo abbiamo un drop di 5 mm con degli stack da 29 mm a 24 in avampiede. Il peso è di 250 grammi. Mentre nel donna abbiamo un peso di soli 215 grammi, sempre drop 5 mm con gli stack 27-22 nell'avampiede. Diamo anche un occhio all'importante novità di Clifton 8 che è proprio il battistrada. Abbiamo più tasselli aumentati nello spessore e anche nella quantità. Il tutto per rendere la scarpa molto più duratura e anche flessibile. Ora ragazzi mi raccomando se avete dubbi o domande i commenti qui sotto ci siamo. Oka Clifton 8 è una scarpa che possiamo consigliare al podista che vuole leggerezza e ammortizzazione oppure se vai a camminare anche un ottimo comfort e un'ottima rullata. Che dire ragazzi è una scarpa davvero interessante. Vi aspettiamo a provarla nei nostri negozi sia a Busche che a Signoressa oppure se abitate lontano anche online sul sito www.passport.it Ciao!